Come è andata? Molto bene, è stato un bel esame. Principalmente sono riuscita a seguire un filone che già mi ero prefissata, però grazie anche agli argomenti, perché hanno assecondato molto le nostre inclinazioni. A me piaceva molto di più scienze, infatti sono partita da quello e mi sono collegata alle altre materie. Sono stati veramente bravi. Proseguono gli esami di maturità ai tempi del coronavirus. A Crema sono 1.324 gli studenti chiamati ad affrontare una maturità decisamente anomala, in cui a farla da padrona sono le regole anticontagio. Obbligo di mascherina per chiunque entri nella scuola, studenti, genitori o personale, ausiliario tecnico, sanificazione, autocertificazione e prova febbre con il termoscanner. I candidati sono messi all'esame quest'anno solo orale con al massimo un accompagnatore, entrata scaglionata ed uscita diversificata. Ogni mattina vengono esaminati 5 maturandi per un'ora circa di colloquio. Abbiamo incontrato qualche studente del liceo scientifico di Crema, prima e dopo l'esame. Come è ritornare a scuola dopo quasi quattro mesi di lockdown? È un po' strano. Cioè, se fossi tornato per una cosa un po' normale, meno ansia, sarebbe stato meglio, però almeno concludo il mio percorso qua a scuola. Sei emozionato? Decisamente. Paura? Sì, molta. Non l'hai già fatto? No, io sono domani. Com'è l'atmosfera? Ansiosa. Però mi hanno detto che quando si entra poi ti mettono a loro agio, quindi speriamo. Com'è stato rivedere la scuola aperta dopo tanti mesi chiusi? È un po' effetto, perché comunque essere... Cioè, aver passato qua cinque anni per fare gli ultimi mesi da casa da soli è un po'... Boh, è un po' strano, però... Bene. Normale, come doveva andare alla fine. Un po' di agitazione, ma tutto bene. No, la scuola non è che mi sia mancata. Mancavano i miei compagni, gli amici, che ho rivisto un po' oggi. Un po' li vedrò più avanti durante l'estate. La condivisione di ansie, paure, ma anche di slanci affettivi al termine di una prova così importante è quello che ha mancato di più a questi ragazzi. I festeggiamenti sono solo rimandati, ma ci saranno, promettono, e intanto pensano al loro futuro. In questo caso la quarantena è stata molto utile. E cosa farai adesso? Adesso vorrei tentare medicina, quindi spero di passare il test. Indirizzato verso ingegneria ambientale o biomedica, comunque però non sono ancora usciti i risultati del test. Allora, una bella domanda. Probabilmente biotecnologie, però non so, devo ancora un attimo decidere. Ti è servita questa quarantena per capire? Sì, ho avuto più tempo per pensare e, boh, alla fine ho deciso e sono convinto di quello che farò. Scienze gastronomiche a Parma, molto probabilmente.